e sono qua basta fumare fumare da fastidio da fastidio venite qua allora noi abbiamo un metodo infallibile infallibile come faremo a sviluppare emozioni dovete guardarvi intanto dovete indossare il numerino che vi è stato dato indossatelo ben visibile poi voi non dovete flertare necessariamente con la persona che avete o non avete davanti meno male qualcuno dice meno male ma arrivano dovete guardarvi attorno quando avete coscia dovete prendere carta e scrivere un messaggino con quello che vi chiede ma come a Grazie.